In riferimento alle obiezioni sollevate dal gruppo consigliare Insieme per Asso durante il Consiglio Comunale del 4 maggio 2022, l'amministrazione comunale comunica quanto segue. Il regolamento del trasporto scolastico è stato redatto in conformità con quanto indicato dalla legge vigente. Si assicura alla cittadinanza che nessun minore verrà lasciato per strada da solo. Con le disposizioni contenute nell'articolo 19 bis del Decreto-Legge 148 del 2017 viene data la possibilità ai genitori esercenti, la potestà genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari, ai sensi della legge 4 maggio 1983 numero 184 dei minori di 14 anni, di autorizzare gli stessi ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonerando gli enti locali gestori del servizio dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza, in considerazione dell'età di quest'ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione. Le famiglie sono sicuramente in grado di compiere delle scelte corrette a tutela dei loro figli. Per quanto riguarda il servizio di accompagnamento, la norma di legge ne prevede l'obbligo solo per i bambini della scuola dell'infanzia, come infatti viene regolamentato e garantito dal Comune. Per la scuola primaria, laddove se ne presenterà la necessità, garantiremo anche questo servizio, come sempre fatto. Per la problematica sollevata dal gruppo Insieme per Asso, circa il diritto all'esenzione sulle tariffe annuali per gli alunni portatori di disabilità motoria certificata, si fa presente come sia stato malinterpretato l'articolo del regolamento, in quanto già la legge 104 del 92 prevede la gratuità del trasporto scolastico per le categorie di disabili invindicate. Si è semplicemente voluto specificare che i disabili motori certificati avranno la gratuità solo se trasportabili sullo scuolabus, perché, in caso contrario, interviene già la legge che garantisce loro il trasporto, ma con altro mezzo idoneo, come già avviene. Comunque, le tariffe e le esenzioni vengono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, quindi suscettibili di eventuali modifiche in base anche alle situazioni che si possono presentare, caso per caso. Infine, si sottolinea che nulla vieta ai consiglieri comunali di proporre emendamenti alle varie proposte di deliberazione in discussione all'ordine del giorno, direttamente nel corso della stessa seduta consigliare, che, qualora ritenute meritevoli, possano essere messe ai voti e, pertanto, tutte le affermazioni fatte dal gruppo di minoranza appaiono meramente strumentali.